Ho sempre dato il meglio di me all'interno di un gruppo, nello studio, nello sport, con gli amici. E anche in ambito professionale mi piacerebbe lavorare in un ambiente stimolante, dove le persone possano davvero esprimere le proprie capacità. Sono fatto così. Pianificare le mie attività mi dà la sensazione di poterle controllare meglio, soprattutto quando accadono degli imprevisti. È una mia visione personale, ma credo si possa applicare a tutto, nella vita e nella vita. I couldn't imagine life without numbers. To me, they represent the best way to understand and explain the world around us. During my academic studies, I just fell in love with finance. Maybe I'm a bit of an idealist, but one of my greatest desires is to make a contribution through my work to improving the quality of the world we live in. La maggior parte della nostra vita ruota intorno al movimento. Normalmente ci spostiamo in macchina oppure in treno. Persone e merci attraversano i continenti in nave o in aereo. Utilizziamo infrastrutture sempre più articolate e tecnologicamente innovative. Viaggiare, esplorare, espandere la visione delle cose. In una realtà sempre più complessa e globalizzata, tutto sta cambiando velocemente. Il turista è sempre più esigente e consapevole. Se vedo un cartellone pubblicitario mi soffermo. Se mi basso in retta in un banner, mi chiedo come l'avrei realizzato io. Non mi perdo nessuna fiera del design. Come si gestisce un evento e tutte le dinamiche che ci stanno dietro mi incuriosiscono. Sono convinta che ogni realtà abbia bisogno di regole condivise. Ogni società e ogni organizzazione. Ho studiato il diritto e mi piace cercare di capire soprattutto che cosa sta dietro alle leggi. Che cosa significano veramente. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.